Grazie mille. Allora, parleremo di CodeQL, CodeQL come supporto al Vulnerability Research. Sono Alessandro Tanasi, chi sono? Ve lo cercate su internet perché tanto non frega niente a nessuno. Parleremo di un sacco di cose complicate, tra l'altro questa è una presentazione da 45 minuti, ma tanto siete tutti super intelligenti, per cui in 22 direi che ce la facciamo la grande. Cercheremo un pochettino di capire qual è il problema e cosa fa CodeQL. Allora, qual è il problema? Il problema è quello delle vulnerabilità. Voi sapete che il codice ha dei bug, perché gli umani sono allibili, quindi ci possono essere dei bug nel codice. Cosa è un bug? È un qualcosa che mette il software in una condizione non prevista dallo sviluppatore, che vuol dire un comportamento non previsto dallo sviluppatore. Alcuni di questi comportamenti hanno degli impatti sulla sicurezza informatica. Queste sono le vulnerabilità, sono di fatto un sottoinsieme dei bug. Ci sono molti tipi di vulnerabilità, alcuni di questi possono essere trovati tramite l'analisi statica del codice. Cos'è l'analisi statica? È prendere il codice sorgente, guardarlo per così com'è e andare in cerca delle vulnerabilità. Dall'altra parte c'è l'analisi dinamica, che vuol dire prendere il codice e eseguirlo, e andare a ricerca delle vulnerabilità a runtime. Noi parleremo solo di analisi statica. L'origine delle vulnerabilità, credo che lo sapete bene, almeno per la gran parte delle vulnerabilità, è un input non controllato, appunto un input che per qualche modo arriva al software e mette questo software in una condizione non prevista. Di fatto lo chiameremo input controllato dall'utente e non prevista. Com'è che questo input riesce a livello teorico a fare dei danni al codice? Beh, intanto questo input deve arrivare al codice in qualche modo e dove si inserisce l'input si inserisce in quello che chiameremo source. Quindi il source di fatto è un punto d'ingresso del nostro codice che va a leggere dell'input controllato dall'utente. Potrebbe essere una textbox, un file a caricare, una mail che arriva, qualsiasi cosa che di fatto non è inserita dallo sviluppatore ma è inserita da qualcun altro, la chiameremo source. Basta che qualcuno metta un input malevolo per esploitare una vulnerabilità, che vuol dire usare una vulnerabilità? No, perché questo input, il source, questo input malevolo che mettiamo deve arrivare a qualcosa che di fatti fa l'azione malevola. Quindi ad esempio, che esegue un comando? Facciamo finta una vulnerabilità di tipo RCE, di esecuzione di comandi un input malevolo di un attaccante deve arrivare di fatto a una funzione che chiama un'esecuzione di un comando che ne so, una shell per capirsi, per essere eseguito. E questo lo chiameremo sync. Di fatto un input, un source che porta un input a un sync, di fatto potrebbe portare a una vulnerabilità. Se nel mezzo non c'è quello che tutti i buoni programmatori dovrebbero mettere, che c'è la sanitizzazione o comunque la validazione dell'input per fare in modo che eventuali input malformati non possono creare quello che si chiama percorso tra source e sync. Quindi avere un code path che porta da sorgente a sync. Questo gran pippone teorico praticamente in cosa si traduce? In quattro righe di PHP che ci ha fornito Satana, in cui un input viene preso, viene passato da funzione a funzione e arriva in una system che di fatto è una chiamata ad esecuzione dei comandi. Questo banalmente può essere semplicemente raffigurato nel grafichino in cui vedete che l'input arriva alla funzione passa all'altra funzione e arriva al sync. Nel momento in cui arriva al sync c'è la potenziale vulnerabilità. Questa come si esploita? Si esploita molto banalmente come una qualsiasi command injection quindi ad esempio col punto e virgola potrebbero esserci utilizzati altri caratteri e il payload da eseguire. Questo va a creare l'esecuzione in realtà del codice che vedete sulla destra e porta a quell'output. Molto molto banale. One zero one come dicono gli americani dell'esecuzione di una vulnerabilità. Qua avete capito il percorso che di base porta alla vulnerabilità. Source sync quindi sono fondamentali. Ogni linguaggio ha i suoi source sync. Perché chiaramente capite che ogni linguaggio ha le sue metodologie per leggere l'input e ha le sue potenziali funzionalità pericolose. Per cui come vedete già capite che se dovete andare a cercare qualcosa non dovete leggere tutto ma dovete andare a cercare in modo mirato da una parte quelli che sono l'input e dall'altra parte quelle che sono le funzionalità pericolose. E sono tipiche per ogni singolo linguaggio. Come si fa questo? Questo si fa in una miriade di modi. L'accademia chiaramente si sbizzarisce nel trovare sempre tecniche più affinate, veloci e prestigiose che accurate per riuscire a effettuare l'analisi di un codice. Quindi di fatto trasformare quello che è il codice sorgente in una specie di costrutto grafico sintattico analizzabile in modo programmatico. Uno di questi si chiama DataFlow Analysis. Non è altro che di fatto prendere il listato del codice e farlo diventare un grafo, banalmente. Un grafo che ci ha spiegato a scuola. Questo ci porta a capire come i valori delle singole variabili vengono trasportati all'interno del codice. Quindi una variabile che vale A, vado a vedere come questo valore si propaga all'interno del codice. Che va bene, ma va bene fintanto che questo valore non cambia. Magari viene concatenato, viene maledetto firewall. Magari viene concatenato, viene cambiato. Viene fatta una qualche tipo di trasformazione sulla stringa, nel caso sia una stringa, che la modifica leggermente, ma magari non disinnesca quello che potrebbe essere il payload malevolo. E quindi va fatto un altro tipo di analisi. La principale si chiama Tent Analysis. Cioè si marca una variabile come Tent, come avvelenata, perché ha preso un input senza opportuna validazione. E si va a vedere nel grafo del codice come questa variabile marcata come avvelenata si propaga. Se questa arriva a un sync, potremmo avere un potenziale problema. Se invece prima di arrivare a un sync questa viene validata, il problema potrebbe non esserci. Qua chiaramente uno un pochettino più sveglio mi dovrebbe dire sì, ok, ma come faccio a capire se c'è un validatore di mezzo? E qui chiaramente sta il gioco. E il gioco nel riuscire a mappare tutto quello che possono essere le tecniche efficaci di validazione rispetto a quelle che in realtà non lo sono. Ultima appendice teorica è quello che è la Variant Analysis. Fino a prima abbiamo visto come si attraversa il codice a livello grafico. Questa invece è una tecnica di analisi. Perché voi potreste cercare una vulnerabilità a prescindere o cercare una vulnerabilità utilizzando come seed, come idea principale, un'altra vulnerabilità. Andando a cercare quello che è similare. Tante volte questa è una tecnica molto efficace perché si utilizza per, a partire da un CUE magari esistente, andare a cercare vulnerabilità simili su codebase diverse o alterazioni della stessa vulnerabilità sulla stessa codebase. Quindi di fatto andando a vedere se magari la singola vulnerabilità è stata fissata bene. O se l'idea di quella vulnerabilità, di quel modello di vulnerabilità è applicabile su altre codebase. Tutto questo per arrivare a dove? Per arrivare all'idea di quello che è il processo di ricerca a vulnerabilità. Quindi partire da quello che può essere un modello di bug di vulnerabilità individuando le possibili funzionalità pericolose, quindi funzioni pericolose dove devo arrivare, le sorgenti di input dove posso immettere un input pericoloso controllato da me stesso andare a cercare se ci sono dei data flow che mi portano da A a B e chiaramente utilizzare degli strumenti per fare questo perché io sono pigro, voglio bere birra, non voglio perdere tempo a farlo a mano quindi cerco degli strumenti per farlo in modo da dover semplicemente validare i risultati che lo strumento mi dà. E qua arriviamo a CodeQL CodeQL è uno strumento messo a disposizione da GitHub hanno sviluppato loro di base e due cose un linguaggio che permette di fatto di fare query e l'engine che fa girare queste query può essere utilizzato tipicamente in due casi d'uso il primo è l'automatizzazione della sicurezza nelle pipeline CI-CD chiaramente per fare analisi statiche e la seconda è principalmente quello per cui è nato è l'utilizzo da security researcher per andare a cercare vulnerabilità a manella più o meno ha delle licenze che sono veramente erognose per cui ve le andate a leggere sul sito di base potete usarlo su tutto quello che è codice libero se invece è codice privato dovete pagare c'è storia supporta tutti questi linguaggi chiaramente Rust non lo vedete perché sapete che è il linguaggio più sicuro del mondo per cui c'è solo sta roba qua cosa potete fare con questo? potete cercare delle vulnerabilità potete utilizzarlo durante le code review per assistervi a automatizzare certi task ma in particolare è nato come strumento di sharing nel senso che in senso opposto a quello che sono gli strumenti commerciali dove di fatto voi vi comprate uno strumento che vi dà più o meno un report e avete una limitata capacità di manipolazione dello strumento di configurazione qua invece avete il controllo totale per cui chiaramente l'obiettivo diverso questo è un obiettivo più verso la ricerca dove voi di fatto potete scrivere le query che aiutano alla scoperta delle vulnerabilità il concetto su cui l'hanno sviluppato e hanno sviluppato anche il modello di licensing è che questo knowledge base è quello che conta per cui l'engine ve lo diamo come proprietario ma comunque ve lo diamo free ma quello che conta è la conoscenza che voi mettete nello sviluppare le query e hanno creato un sistema perché questa conoscenza venga condivisa quindi come lavora? l'idea di base è abbastanza diversa da altri strumenti ed è quella che il codice viene gestito come un dato come se fosse una base di dati e che voi potete andare a scrivere delle query esattamente come fosse il codice SQL per interrogare questa base di dati queste query appunto come dicevo vengono condivise con la community ci sono stati nel passato anche vari effort tipo di capture, flag per chi scriveva le query migliori che trovavano vulnerabilità su certi progetti per cui Github dava un bounty in modo che Github nel tempo si è costruito tutto un database di query, di baseline che adesso utilizzano di base come set di query di default su tutti i progetti perché questa è una cosa che potete abilitare su qualsiasi repository Github chiaramente ha il supporto codice sorgente quindi quando fate l'analisi potete vedere nel codice sorgente dove sta il bug analizzarlo eccetera eccetera lo vediamo più avanti e questo grazie a CodeQL inteso come linguaggio che è un linguaggio esattamente uguale a SQL con un'aggiunta di un qualcosa obitucoriente per cui ha dei costrutti di programmazione basici che vi permettono di fare query abbastanza complicate ovviamente è read-only quindi come se su SQL aveste solo le select e supporta tramite delle librerie standard tutti i linguaggi che abbiamo visto prima questo per realizzare cosa? il fatto che date un repository sul vostro pc o su Github questo repository viene preso dall'engine di CodeQL viene passato e viene creato un file di database che contiene nella rappresentazione di questo repository voi non fate altro che andare a scrivere le vostre query e l'engine le fa girare su questo file quindi di base l'effort computazionale è uno tutto il resto è l'esecuzione di query questo sia per i linguaggi interpretati che per i linguaggi compilati chiaramente a livello di linguaggio compilato quando va a creare il database si compila si compila il codice chiaramente e vi dà i risultati come vi dà i risultati vi dà i risultati formattati nel modo che voi avete specificato nella query quindi di base graficchini disegnini e sta roba qua come si usa? allora la parte più facile è che viene embedded in ogni repository per github per cui voi andate nel vostro pannello di impostazione di github e abilitate questa roba quando l'abilitate lui crea tramite API un file che è il file del database codeql per i repository che è scaricabile nel caso questo non esista già perché è già stato creato la prima richiesta API che voi fate non fa altro che triggerare il building del file oppure se dovete analizzare del vostro codice super segreto project antani eccetera eccetera fate tutto localmente chiaramente con tutte le pippe di licenza che vi ho detto prima primo caso quello più facile è l'utilizzo su github che è anche quello che i dev principalmente vogliono fare quindi farsi la loro bella pipeline in cui ad ogni commit o ad ogni pr o ad ogni merge di fatto gira l'analisi statica e vi dà del feedback immediato in varie modalità però di fatto vi dà del feedback immediato come voi configurate che di base vuol dire che quella roba lì che vi mostra il vostro bello allertino con la descrizione la problematica eccetera eccetera e voi ve l'analizzate lato dev lato researcher un pochettino più complicato nel senso che il modo più comodo ve la faccio breve è utilizzare un'estensione di vs code che supporta pienamente le funzionalità di code ql per cui voi installate questa roba ed all'interno di vs code non solo potete guardare il codice ma potete scrivere le query eseguire le query guardare i risultati andare a fare debugging insomma tutto quello che dovete fare chiaramente durante le tipiche operazioni di vulnerability research ci sono altri vari tool c'è anche la code ql che è quella che serve per utilizzare code ql in ambito locale quindi fare tutto da voi in ambito privatissimo segreto super segreto i gap e dantani e ci sono altri tool un pochettino più complicati che vi menziono ma non vi racconto nemmeno come è fatta una query banalmente sembra semplicissimo import della libreria standard che supporta il codice che volete analizzare quindi import java import golang e whatever sintassi sql from where select ok quindi costrutto logico salvate in un file .ql in cui sta la vostra query ci sono pure delle metadati che chiaramente vi descrivono la vostra query nel caso questa debba essere distribuita perché ricordate che il meccanismo è quello della community per cui questo è molto importante e di base una query del cavolo potrebbe essere questa cioè per il linguaggio java tutto quello che è un if ok è un blocco di codice vado a prendere tutti i blocchi di codice che stanno dentro un if nella parte ven e vado a vedere i blocchi che sono vuoti di fatto l'idea è che vado a cercare tutti gli if vuoti questo potrebbe essere una banalissima query di qualità del codice ok molto molto semplice ma tante volte si parte così per poi andare a prendere confidenza con repository e andare molto più in fondo a cercare le vulnerabilità come vi dicevo ci sono dei costrutti logici ad esempio quella banalità di prima utilizzando un predicato che non è altro che un metodo di python o una funzione potete portare fuori la logica e quindi già qua iniziate a complicare le cose potete complicarle ancora di più quindi predicato di prima potete trasformarlo ad oggetti quindi fare una classe che contiene interamente la vostra business logic questo serve chiaramente a fare le query molto complicate dove dovete splittare la business logic in un modo comprensibile da un umano esistono dei database di query già pronte tutti categorizzati per common weakness numeration quindi per tassonomia di tecnica utilizzata nella vulnerabilità nell'attacco insomma SQL injection command execution eccetera eccetera che consiglio di andare a guardare per prendere un pochettino confidenza su come funziona fare le query questo ad esempio è una di quelle che trovate già pronte è un CVI molto banale di utilizzo di java mail però senza la validazione del certificato per cui potrebbe essere un self signed banalmente ok come vedete non è complicatissimo però già per leggere questa roba non ve la sto spiegare pezzo pezzo però è già un pochettino complicato e chiaramente questa è mirata a java mail validazione certificati come vedete non esiste la magia esiste il singolo specifico caso d'uso ed è questo che di solito va a scrivere un hunter cioè si specifica su un modello debug estremamente preciso quel file lì di prima è corredato di un file di questo tipo qua che si chiama qhelp che di base è la descrizione con metadato xml quindi di fatto questo serve di base a crearvi il report avete la descrizione link riferimenti tutte le menate che poi vi piace mettere nel report esempi di vita vera questo è un grep è banalmente un cavolo di grep che va a cercare la stringa questo chiaramente è la cosa più prona a fassi positivi del mondo però qualsiasi cavolo di strumento dell'analisi statica sta roba ce l'ha chiaramente questa la utilizzate voi in un livello di analisi un pochettino più avanzato dove andate a cercare cosa mirate step successivo data flow analysis quello che abbiamo visto prima quindi vado a vedere come un valore si propaga all'interno del mio codice perché mi aiuta a capire come è fatto il mio codice qual è la modalità in cui i valori vengono propagati ed è già una cosa più complicata questo è un esempio per Asplot.net in cui si va a seguire il local flow finché non si arriva a quello che si chiama un expression node non ve la sto a raccontare perché non ce la si fa però già vedete la cosa si complica dicevamo il problema di seguire i valori è che se vengono modificati come in questo esempio qua io posso andare a trovarmi un falso positivo quindi per evitare questi casi qua uso l'attente analysis quello discorso che vi dicevo prima di marcare come avvelenate le variabili e quindi vado ad utilizzare il modello di tentanalisi perché per ogni cosa che vado a cercare per ogni codice fatto in un certo modo io utilizzo la query giusta non esiste chiaramente la panacea perché se no io e tanti altri qua saremo senza lavoro ovviamente questo è costrutto a oggetti per la tentanalisi qua vedete che manco vi ho messo la query vi ho messo solo il costrutto perché qua ancora le cose si complicano ancora di più ed è un costrutto a oggetti dove vado a definire come è fatto il source come è fatto il sync e vado a cercare un dataflow che mi propaga il tent tra il source che ho scelto e il sync che ho scelto questo è assolutamente mirato ok da dove partire l'idea di partire se volete partire con sta roba perché avete visto che è molto complicata il suggerimento è prendete una code base open source prendete un cwe che sapete esistere in quella versione del software e cercate di scrivere la query che individua quella vulnerabilità in quella versione del software perché sapete che c'è sapete dov'è sapete qual è la tipologia sapete qual è il modello di vulnerabilità e dovete solo andare a cercarlo questo è un ottimo modo per imparare a partire direttamente dalla variante analysis di base un banalissimo esempio di vita vera che dopo vari tentativi eccetera perché chiaramente non è che uno se ne esce così bellamente con questo tac vi caga il cwe no qua ci si arriva dopo analisi del codice dopo nmila query giorni persi bestemmie birra red bull eccetera poi magari uno arriva qua qua banalmente va a cercare una regasp sbagliata di validazione e si trova di fatto quello che è un bug e una vulnerabilità perché in quella validazione lì passavano i punti il carattere punto che sapete che è una wildcard per cui di fatto quella roba lì non validava un cavolo insomma ok questo per dirvi ragazzi sta roba qua è un casino se avete mai avuto a che fare con l'analisi statica con la code review lo sapete bene non esistono tra l'altro strumenti manco quelli commerciali che vi risolvono il problema questo è un assistente automatizzato alla vostra attività di code review ok come potrebbe essere barp un comodissimo assistente durante il penetration test web ha un lato automatizzabile che è quello che di base che vi fornisce github nei repository perché lì vi forniscono un grossolano set di espressioni molto ben testate che quindi sono molto efficaci quindi per voi è molto facile inserire nel vostro SSL10 cioè nel vostro ciclo di sviluppo sicuro potete anche usarlo come regression testing però sappiate che questa cosa è nata per fare research quindi usatelo per fare research e per divertirvi un po' di riferimenti trovate tutto su google eccetera se volete fare più esperienza a livello pro fu fatta una CTF con dei bounty adesso i bounty non ci sono più ma le cial ci sono ancora per cui se volete giocare a livello più pro ci sono le cial ancora in giro che trovate lì prego Seba se ci sono domande domande qualcuna domande nessuna domanda allora grazie Jekyll per aver con ah no c'è uno c'è uno c'è uno scusate non l'avevo visto Aliash ciao sì grazie per il talk tool interessante allora io lo vedo abbastanza come regression analysis diciamo per evitare di fare errori che magari uno ha già fatto la domanda che volevo porti è quanto tempo ci sta per farsi un database c'è una roba che gira in CICD ci mette pochissimo sì veramente poco sull'ordine di minuti ordine di minuti se tassa è tanto dipende dalla code base chiaramente dipende da quante librerie esterne tira fuori perché lui deve andare a analizzare anche tutta la parte delle librerie esterne dipende tra l'altro c'è anche tutta la modalità per andare a modellizzare le librerie esterne perché magari tu quella la dai come per sicura per cui la marchi come sicura non mi interessa di trovare bug su LibC per dire magari però perché sennò chiaramente vai a analizzare l'universo mondo per cui devi settorializzare però ci mette veramente veramente poco assolutamente bene allora possiamo ringraziare Jekyll e un grande applauso grazie mille grazie per condividere la tua esperienza e conoscenza all'ESC grazie a tutti grazie a tutti